Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno solo, due, tre, dai, quattro. Ok, ok ragazzi. Siete fantastici già da adesso. Andiamo a casa. Bene, adesso, no, non vi dico niente. Iniziamo. Se Tolo... Sì, tanto che Tolo si prepara perché chitarrista di Treviso... Un jack che non va. Prova il jack. Un jack che... Un jack che... Un jack che... Sì 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 Ho sentito un vuoto dentro di me Ed un senso di paura Mentre il buio delle nuvole Era ancora intorno a me Poi all'improvviso sotto di me Un'oceano di luci Così tante in una volta al sola Non le avevo visto ai frati Invece 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.